E benvenuti ragazzi in un altro video di Factions e oggi vi lascio la parte 2 al mega PvP raid dei VIP di Eros Spero vi piaccia ragazzi, ci hanno teletrasportati così all'ultimo e veramente è stato incredibile Soprattutto non ci aspettavamo così tante cose, così tanto successo Vi ricordo ragazzi, vi ringrazio per il like giornalieri quotidiani, i 30 iscritti giornalieri ancora Buona visione Sì sì ma si hanno protetto queste qua e non hanno coperto queste qua, vuol dire che queste qua sono vuote, ma queste sono piene Queste non erano vuote, non erano vuote queste, te lo assicuro No, lo so, lo so, lo so tu, dico, dico quelli sopra sono vuote, quelli sotto sono piene Ho scritto, ho scritto a Fulminius, grazie per l'auto C'è qualcuno che mi picchia, Lord of Death Ragazzi c'è un po' di gente eh E' raga pronti Beh un po' di gente, forse è più gente Ragazzi è che ti vuoi c'ha un uovo? No A me me l'ha rubato di helper C'è va ma dopo le proviamo comunque quando se ne va magari Ma avranno già rubato tutto dopo Oh regà poi c'è un buco dove si può mettere i diritti Sei senza elmo, Gio sei senza elmo Gio, Giulietà, Giulietà E' vero, è vero, blu Regà ma anche che sta colpendo Giulietà che me ne me lo spiegate È l'hard of the kebab Blu, blu Sì? Di fianco la ciste c'è un ender c'è sto senza l'acqua Di fianco proprio la ciste mi tirerà No, sto saltando Sì, hai già un po' bene perché non va bene Sono pieni quest'alte Questi qui Quelle basse Eh, infatti Eh, la mette qua qui Ender c'è Parla su T.S. Non parla su T.S. Lui asciugati con la città che ti devo dare delle cose Lui che è che ti sta scrivendo No Oddio, rega, sono alla ondinico, Zora È un nostro ali, l'aiuto a difendere Però è enorme, proprio enorme, sto laggando Blu, guarda Questa era un anti-fk Questo L'hanno appena rotto C'era un anti-fk qui Uno sotto Alla Dev'andare Ci vediamo dopo Ciao 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 Vieni sotto, blu, vieni sotto, non c'è più nessuno Blu, vieni sotto fuori, vieni con l'uovo Eh, qua c'è Nella Ender C'è Rega, stanno gripando uno dei nostri ali Eh, no, dai Ci sono ti fatti ma c'è trappa gente Allora fammi usare una clip Qua che secondo me vale la pena Qua si scavo Un acerino però Mi aspettate vengo anch'io Cioè sto mettendo via di un attimo delle cose Blu, te lo fa una? Eh, non sempre Quasi mai Posso provare io Posso provare io, blu, vieni, posso far darmelo No E blu, se provi a metterlo qua? Bene Blu, provi a metterlo qua sopra così esplodere No, quelle so qua sono vuote Quelle sotto sono piene perché loro iniziano da sotto a mettere roba come qua Erano full putt 10, blu Blu, prova a metterle qua, blu, blu, blu In questo buco qua, prova a metterle in questo buco qua Provare a metterla qua Caccetta, dar, caccetta Bravo Ah, ma ha raggiunto Blu per terra, per terra, blu Chi è che c'è? Ma con... Chi è che c'è? Chi lo fa una? Lycos Alla, ma noi Alla, ma noi Alla, ma noi Come funzionato La mia Lycos 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 No Ah, ok What, è morto 1, rega Che è morto 1 Dimmi Lala è qui acquistato di ben continuo a spawnare lol no non spona qua ragazzi che oltre a blu c'è un uomo di climber è usato è sponato è sponato è sponato tiro leggendari che metto al blocco qualcuno rimane che metto al blocco non fate casino ci siamo i miti bella ne ho ancora due io e mi sa che lo userò fa perché spostarmi però ragazzi sono noi a spostarmi tutti via ragazzi proprio poi ci facciamo oggi io mi ha tappato fuori c'è dark e tradici via ma ci sei te ora noi sono qui non sono due livelli che non vi dovrà diventare a prendere l'ho chiesto io se vuoi lì se vuoi prova ma i miti ce ne sono dieci casse sono tutte piene di riega riega c'era toxic è detto toxico ai miti dove siete no hanno messo l'acqua no no di via blu su fare vi mando il giusto toxic sull'albero di la toxico arriva hanno messo l'acqua dove anche lì abbiamo fatto esplode comunque non capisci che tante spade lo stesso riega riega è il progetto il progetto toxico ok andiamo da z toxic sull'albero raga va bene sull'albero sopra c'è in comodo ma i miti dove siete a comprare chi è che mi può prestare un uomo di più per l'ora io lo stai ma non mi piacciono dal tuo giochi e notte 80 davanti a te davanti a te in pratica ma i miti e lui da 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 no 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 te lo stanno in chiappetta dai te l'ha preso 20 amiche a te pro gamers 5 di pro gamer 5 no no io ho scritto li faccio bannare se no super se lo banna cosa ha fatto come no temp ban 19 dei tizio caio ruba le uova di creeper a dark joker che rod si 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 eh si ed è tuo è di fanc ecco perchè lol ha sloggato si è spostato proprio mentre arrivava No blu è qua blu è ancora qua lui Raga io lo sto piazzando L'hai descritto che l'ha dato Dark te l'ha dato L'hai piazzato L'hai piazzati Funge Sono spawnati due Oh mio dio Oh mio dio Ina master blu Spero che siate contenti Io ho usato tutte le creeper Anche avevo Ancora una Blu usala Tu che ci hai regalato le uomini Ma i miti c'è da ce n'è altri Ma i miti vieni qua dove ci sono le casse Ma poi dategli un po' del lutto Sì 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 Non ti preoccupare Ma i miti è ricco ormai Quanti soldi hai i miti? 22 milioni Ma i miti c'è quando lo fai Ma i miti non mi sbagli Blu stavo scendo bene Blu stavo scendo bene qua dietro Eh ma c'è troppo niente Eccomi ritornato Raga sono ritornato dal calcio Ma i miti quanto vuoi Ciao Tornato di ben No no vabbè guardate una laggata Madonna ragazzi Quanto siamo in questi Ocali chat 2 Buono sicuro è sempre così eh Appendiamo via blu tutti escono Ok Ma abbastano? No Oddio io ho le cassequine di dragon Ma io dove metterli tutto Ma i miti ma sei youtuber? Sì Bro lo sai che a me mi avevano bannato a caso Senza controllo Dark conosci Shadow vero? Ma i miti ciò danno un po' di soldi Ma i miti Ok ma non serviva Raga avete visto Nico Che è diventato io E indovina chi l'ha fatto pensare a Nico eh Che si fa il culo da brava persona Non è stato super tia Sappiatemi Non è stato super tia No non è stato super tia Che dopo tre ore Che Matteo mi spavava il messaggio privato Sono andato su TS Ho chiamato due staff differenti Uno finalmente Vabbè raga io devo rientrare Ciao Ah sta salutando le cesto Ma radatelo male cioè L'ho ucciso raga l'ho ucciso L'ho ucciso io Non prendetemi i meriti va Ma super tia Vai con l'apocalipse No no Ce l'avevo nel lander Stai tra l'ho appena preso La super tia contro Perché si aprono le casse qua Non la vendo Si sta aprendendo Se ti do due milioni Si ti do due milioni Due milioni Sta aprendo casse in vanish No Ti do due milioni Un martello di Thor E una puliro master Hanno tre Ah raga hanno 17 lander E 39 bowers Ma l'apocalipse è come una limited Cioè non è Questo sta svuotando in vanish Ma a questo punto Le ceste di ferro Saranno pieni a vuote Fuote Trappiene Trappiene Allora Allora usiamo una uova di creeper qua no Ma noi Quello di ferro Che ci fai col ferro Ma con tutti gli rogold Che ci sono in queste cesse Lo facciamo per il ferro E' sponato un creeper E' sponato un creeper Con l'accendino Dove? Allora Robin vanish Sta svuotando Euro bronze Cosa volete? Chi è che gli ha killati tutte persone? Gli ha killati tutte io Chi è che ha killato quello lì con l'apocalipse? Scusa non mi ricordo Chi è che ha ti porto tutti a rete? Super dia Ragazzi è usato lo schifano Ho preso tutto io Io non ho preso niente Sto laggando però Abbiamo preso un altro Io non ho preso voi Io non ho preso sicuramente Blu che è preso male Io ho preso niente io Perché sei youtuber made it? Io vado Ho detto vado a mangiare Oh mio dio Oh lei mi ha preso niente di roba OP Cosa? Ma non hai mai metti che mi ha detto Come faccia vedere l'homo Oh fulino bronze full god Mamma mia Eh vabbè fulino Mandamelo te il tp Io ho preso Io ho preso Io mando Non lo vorrei mandare Rimando Ah ok No ma Dark Cosa vuoi te Dark? No te no Te te non mi fai vedere l'homo Neanche io non ti faccio vedere l'homo Allora Mi spostiamo in un vero file Che comunque c'è meno casino Ok perfetto E ok Mettiamo un po' di dragon Nero bronze qua E credo che si possa chiudere poi questo raid Credo Home B Chi home B Credo che abbiamo Ho preso un hero bronze spada anche Forse mi mancava Non lo so più Penso di aver perso un set A inizio raid Di hero bronze Ma di averne presi veramente tanti Quindi Direi che valza la pena Quindi c'è Ancora una creep rag Ok E credo che così vada via anche la mia ultima creep rag Fine Ho finito GG Clemato dark Lui è un clematissimo Posso tipparmi a vedere Il blu Se vuoi Blu se vuoi La paletta è un clemato Aspetta ti tipi No Oddio mi sono perso Aspetta Prendi dalla Bella Bella mai Ciao Ma i miti Ciao Bella Ciao Hanno richiuso il buco What? Rega che ti vuoi richiusi il buco Dai Io no Io no Che buco Che buco Che buco Ancora Guarda blu Blu Mi è un clemato C'è un sacco di cose Hero crystal Hero legend E se vuoi le metto Ah nel cesto Rega scanzatevi Rega via vi faccio spodere tutto qua Via Madonna Sì Ma si può Oddio Oh mio dio Blu Oddio 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 L'ho detto che Siamo pari spodere tutte le ceste quindi Prendete tutto ragazzi Prendete tutto Oddio Vado a claimare Oh aspettate blu Oh non prendete tutto Ok ho claimato tutto il claimabile Oh mio dio Blu Ho preso le hero zeus Pronto e dieci Anch'io Oh metti a caso Oh Metti a caso e basta Metti a caso e dopo dobbiamo andare a prendere tutto Blu Porta le Blu Porta le Blu Sì Sì Ci conto Blu 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 Aspetta non sono là Sono andato via io avete preso il mondo Fai baci Ce l'ho io non l'abbiamo preso niente Poi slash Ragazzi 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 Spoda ancora Pronti Oh Accettate Dark Joker Accettate La strategia L'alto Le spugne La strategia Dell'acqua Non si persia Certo mi ti piace Per Blu Andata Warp free A prendere Blocchi Per bloccare Nella l'acqua Barona blu Quegli che fiamma tutta la Umba Possiamo griffargli Tutte le ceste Possiamo prendere Poi un attimo Un claimare È troppo euforico Questo Ma che è troppo fuori No non posso un claimare Se no se arriva l'altro tizio E Vai rega Vai rega Vai rega Ok Vado in stanza Ma dove siete voi Se volete venire Se volete venire Su un'istanza verificata Oddio Ok Mi hanno verificato Che bello Adesso posso entrare Ok Ho preso una riga Di hero gold Qui Ce n'è la volontà Mamma mia Blu Ma che riga Abbiamo trovato C'è proprio Hero gold Hero crystal Hero gold Hero gold Hero gold Hero crystal Hero gold Ah ma avete aperto le ceste Sì Sì Perché non ha claimato fuori Sì ma Le avete fatte esplodere Non le avete aperte Ma possiamo farle esplodere Sì perché Ha claimato male In poche parole Cioè il bordo del claim Arrivava all'ossidiano Eh come casa mia Ecco Un claim Alla casa tua Tieni ancora Il settore Mi è che devo inclamare Ora la tieni Metti io Fc Ah bravo 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 Oddio Oddio Il peggio mondo c'è God God GG Electro no Electro fa schifo Wow No io ho preso di tutto Hero legendary Dragon Veramente Io ho preso Hero crystal Hero legendary Il clear lag Però ci sta veramente Uccidendo Ma il clear lag Qui non passano i tot Tempo No Tipo dopo Pochissimo tempo No Non so come funzioni Penso che sia ogni Boh Non lo so Ogni quanto Oh super ti Intanto la roba Tipo Ditela un po' A caso Perché Intanto Le si stiamo Io dopo Basta che non fanno esplodere niente Perché se no Li faccio fuori tutti Ma veramente Oh mio dio Ma Bruno Ma si vede che hanno Strafford Strafford Questi Perché Sì Casa nostra Questo No Casa nostra No C'è casa nostra No Stavo mettendosi dentro Un martello di torre La destroy E la radio Active Eh Eh La cosa Radioactive P97 Io Prego io Legge Non so cosa fa Ma stanno ancora Facendo esplodere Sì Ci stanno qua Tutte le ceste Ti pare che lasciamo Anche solamente due ceste Quali Lasciamo Ma se abbiamo trovato Basta che ci troviamo In una cesta In una leggenda Di a testa Il più Fuori Ma che sono Fuori Leggendari Scusa Secondo me E' Fuori Che Dark Ah infatti E' contentissimo Perché ha trovato Lui Il clay Ma la La home Che avete Che hai fatto Su Fade Cloud Oddio Oddio Erano tutte La casa che avete Che hai fatto Su Fade Cloud E che era Quello lì Che era Tutto euforico Quando Oh mio Dio Oh mio Dio Quando l'ha trovata Era Mattia Penso di sì No Quello dellì Sotto epico No Perché c'era lui Tutto Tutto euforico Felicissimo Di aver trovato La home No Veramente Super Tia Ma 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 Ti credo Che non mori Ma non Ma esti qua Quando torna Alessi Mi dice Ma cos'è Successo Tipo Alessi Dici Ma Blu Ma Chi è Che Lo sei Fatta Una base Ma Blu Ma Veramente Ma Non C'ho Parole Non So Però Se Tutto Tutto Il muro Perché Ho Clemato Fino A un Certo Punto Quindi Però Probabilmente Sì Tanto È Wilderness Il muro Sì Ma Metà L'altro È Clemato Vabbè A sto Punto Blu Possiamo Cannone Up C'è Facciamo Una Spazio Di Minison Cannon Sì Ma Tanto Basta Fare Un Piccolo Cannone Da Dove Stiamo No Cioè Dove Abbiamo Clemato Noi Sì Infatti Anche A comprare Però Dopo Devo Parli Del Bet Perché Basta Mettere Se mettiamo Qua una Spugna E Rompiamo Blocchiamo L'acqua Perché Sennò Qua Arriva Tutta L'acqua Vabbè Ma Tanto Alla fine Le robe Basta Che La Tiene Tieni In Finale Esplode No Perché Qua C'è L'acqua Che L'arriva Da Sopra Quindi Non Comunque Sì Va Bene La Un Sì Sì E Prendi Pro Non Sei Tartano Ancora Prendi Tutti Gli Spawner Oh Sì Prendi Tutti Gli Spawner E Tipo Tutte Le robe Dalle chest C'è Ancora Roba Dalle chest Nelle mie Cest Stai Scherzando Ci Stanno Tipo 4 5 6 Cest Piene Di Pro Ok Ho preso Una Spugna Nuova Ok Si Levano Tac Perfetto Durano poco Solo sto Spugna Però Ok Ho una Tecnica Per Prendere Lutico Tipo Dibemba No Arano Nessuno Facciamo Gli infami Ci teniamo Tutto Per No Dovremmo Vedere Qua Fuori Qua Subito Le ceste Del ferro Ma Non ho Capito Ma Te ne sei Accorto Che c'era Il clean Fuori No Se ne è Accorto Dark Shadow Io Ho Climato Io Lo Adoro Lo Adoro E Basta Per Dire Quello E Climato Lontanissimo Ma Tanto Ormai Sta Ma Cosa Vuoi Che Sia Tanto Loro Avranno Il Peggio Dove C'erano Vedi Arriva Fino Qua Il Nostro Claim Tad Alla Mia Testa Che Non Ho Nemmeno Io Qua Come Possibile Tad Ti Può C'è D'arca Stare Euforico Ma Tad Adesso Chi Diamo Tad Ma Blu Ma Perché Allora Tad Ha La Tua Skin Cioè Ha La Tua Testa Però Non Non C'è La Skin Blu Non Gli Va La Se vai A Vedere Warp Staff Io Ci Sono Con La Mia Skin Bellissima Tra L'altro E Qua Non C'è Non La Vedete La Skin Io Non Vedo Quasi Nessuna Skin No Nessuno Sono Tutte Bagate Le Questo Stai Qualche Miliardo Di Stac Di Hero Legendary Che Hai Preso Sono Livello 3 A Caso Come Mai Ma Si Malando Con I Blue Armi Sare In Tretta Super Tia Vinto La Che Vella Che Blue No Ma La De A No Grazie Non Mi Interessa Ah No Blu Ti Devo Dare Delle Cosi Tu Mi Dici Che Non Accetti Give Sei Cattivo L'altro Gino Ti Volevo Givare Le Mio Hero Legendary Che Mi Vanno Appena Che Vato E Mi Ha Lì Arriva Eh Non Poteva Niente Però Si Può Fare Così Il Cannone Qua 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 Semplicemente Qua Adesso Qua Si Rompo Ancora Un pochettino L'Ossidiana Ok Adesso Da qua Che L'ultimo Mi Spara C'è Lì Dentro Oh Ma C'è Po Di Roba La Sì Che Ah Ma Acqua C'è Qualcuno Invece Che Mette L'acqua Mi Sa Perché Si Però Non Ha Capito Che Mettendo Le Aspetta F C'è F C'è 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 F C'è F C'è F F Può Dire Ma tu Quanti Iscritti Hai F Privati Mi spiace Ma rimarranno Privati Non li sa Nemmeno Il mio Network Eh Non li sa Nemmeno Il mio Network Ah Vabbè Lo scoprirò Qualcuno Qualcuno Vero Quindi Non potrai mai fare gli speciali Per dire 100.000 iscritti No E nessuno potrà mai fare Live Subcounting Su di me Era la prima cosa Che stavo pensando Per andare a vederli Ma perché hai deciso Di metterli Privati Per evitare Tag abuse Su di me In poche parole È uno dei motivi Principali Sì Tipo PewDiePie Live Subcounting E cose del genere Fatti da tutti Sti profili Fake Si fanno Milioni Di visite Ah Ok Ho capito E quella È una Delle ragioni Principali Poi ce ne sono Altre Però Però Vabbè Va bene Così È rimasta Una cesta Mi sa Che gliela Possiamo lasciare No Come lasciare Lasciare Non esiste Usiamo la Creeperag Adesso Lui Guarda Guardami È Tad Questo È quello Da killare Questo qui Dove sei Tad Ho visto L'avevi presa La mia testa Come si chiama Il player Che va con la testa C'era Dentro le casse Oh Ma era dentro Queste casse Qua Si erano quelle In mezzo Alla roba Leggendaria C'era la mia testa Che non è neanche mia No ma adesso Adesso quando Quando Indovidi Così Si si È la tua C'è il tuo nome Mi danno La botte Non più La hero Oh mio dio Blu c'è tipo Dyson che mi accusa Di avermi fatto La sua home Che accusa Di fare cosa Dyson mi ha accusato Di non Non farmi dire Parolacce Che c'è Blu No 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 Perché Blu 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 C'aveva tipato A me la master No Alla sua home E adesso tipo L'hanno griffata Io non so Sono i cabbletlli Ciao clock Blu Allora Vieni fuori Stiamo facendo Un cannone di sabbia In modo che possiamo Intare a prendere Tutte le teste Ce n'è una Ma perché c'è qualcosa Di valore Le teste di solito Quelle che hanno loro Sono buone Blu L'ho riconosciuto Alcune sono rari Ma buone da mangiare? No ma non mi interessano Le teste Quindi Ma più che Più che il Più che il cannone di sabbia È meglio fare il lava monster No ma non si può Non si può Ma c'è anche un helper Tia non si possono Da fare il lava monster Non si possono fare colate Di lava Sì sta venendo bene Ti ho mandato Ti piacere Dobbiamo fare il tetto E ti piacere Ah sono già rimasto Sono già entrato qua È vero Si poteva accedere Da sotto Comunque Da qua Mi ha tipato Prima dark Comunque Blu con questo raid Ah l'abbiamo fatta Tipo C'è ancora il bacon Non l'hanno già preso Ti ho detto Ma tu puoi comprartelo Puoi comprartelo il bacon Eh Puoi comprartelo Si può comprare il bacon Sì si Oh però Un bacon Boh Non so se Boh non lo so Dove era il bacon Eh C'è ancora Ragazzi c'è Fulminius E grazie ancora ragazzi Chiudo anche oggi L'ultimo episodio di Factions Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto ragazzi Vi ricordo come al solito Di lasciare un mi piace E Eh L'iscrizione Se volete Vedere altri video di Factions E se avete delle basi Da mandarci ragazzi Mi raccomando Fatelo Perché A noi servono tantissimo Nel senso Rai diamo Tante Tante basi Tutti i giorni E Magari potrebbe essere Che escono in ritardo Quindi Mi raccomando Aspettate Che magari Tutti i video Escono Ma non so Non so dirvi quando Il server pubblico E il dp in alto destra Quindi ragazzi A domani